Ancora pochi giorni poi dal primo aprile Vito Montaruli non sarà più questore di Campobasso. Ha guidato la questura del capologo per poco più di un anno e prima di lasciare ha voluto incontrare i giornalisti per ringraziare quanti lo hanno supportato nella sua attività e per fare il punto di quanto fatto durante la sua permanenza in Molise. Rilevo dagli ultimi dati che c'è nel territorio provinciale non c'è in realtà un incremento del fenomeno della criminalità predatoria. È necessario, ma questo è ovvio, è necessario e importante che venga proseguita l'attività di controllo. Quella è l'unica soluzione che si potrà adottare. Anche a Termoli il commissariato è impegnato in questa attività. Non mi sento di poter osservare che c'è effettivamente una vera e propria recrudescenza. Certo, ripeto, bisogna lavorare continuamente in modo serio. Nei mesi scorsi a Campobasso e nell'Interland si era creato un vero e proprio allarme per i furti in abitazione è fondamentale la presenza capillare degli agenti sul territorio. In virtù di quello che si diceva, è stato detto ancora più autorevolmente da persone molto più autorevoli di me e da altre istituzioni, noi siamo in tempo per salvaguardare l'integrità del Molise, perché il Molise, la provincia di Campobasso di cui mi sono occupato, è sicuramente un territorio sano. Siamo ancora in tempo e quindi adesso con i mezzi che abbiamo siamo riusciti a controllare questo fenomeno e a renderlo meno dannoso per la cittadinanza. E però sarebbe bene investire, come si vuol dire, in sicurezza.